POKEMON HORROR GAME Infatti per chi non lo sapesse ragazzi la Creepypasta prevede anche un finale segreto Esiste di fatti un'altra storia raccontata su questo gioco che prevede una seconda parte Ora è una Creepypasta molto meno famosa Avevo infatti il dubbio di decidere se portare questo gioco come accompagnamento per la serie dei classici della Creepypasta O come Pokémon Horror Game ho scelto la seconda perché per l'appunto è molto meno famosa Ma ragazzi quest'oggi andremo a viverlo assieme E io non mi ricordo assolutamente la Creepypasta Ricordo di averla letta una volta ma non ricordo che cosa contenga La prima parte ragazzi è identica a Pokémon Lost Silver normale Ma poi andrete a vedere che cosa succederà Per chi ovviamente già non conoscesse la cosa da fare Ci ritroviamo come al solito nella nostra stanza rossa Cioè come al solito come se succedesse tutti i giorni Ci troviamo nella nostra stanza rossa nel nostro corridoio sempre più buio Ragazzi preparatevi Se la serie vi piace lasciate un bel mi piace Gioco di parole La prima parte, il primo video su Pokémon Alone.exe è andato molto bene E volevo dirvi anche ragazzi che esisterebbero in teoria tantissimi altri giochi horror Ma molti sono stati bloccati da Nintendo Molti si trovavano sul sito Game Jolt ragazzi E sono stati eliminati Quindi ho una scelta molto limitata E dovrò portarne alcuni di più sconosciuti E comunque finiranno più o meno presto Detto ciò Vi faccio vedere come accedere alla seconda parte di Pokémon Lost Silver Trovate in descrizione il link per scaricare il gioco che la contiene Al cartello dovrete premere no per ben quattro volte Poi ragazzi non so più nulla E si inizierà con la nuova avventura Quarta volta Harry has Harry ha Ok perfetto È scomparso il cartello E Ok Ci stiamo muovendo all'indietro Ah ok Turn back now no E ci sta in realtà obbligando a tornare indietro Ok Raga io non so se ci sono jumpscare o robe strane qua Ok spero di non aver Ok no era solo un riflesso del PC madonna Ok perfetto Ok stiamo diventando sempre più scuri Perfetto E il problema è che stiamo diventando più scuri No Cioè stiamo diventando più scuri noi Non il gioco Ok Ok perfetto Qua non c'è nulla Al cazzo c'è una scala Merda Merda c'è una scala Freniamola Ok ora posso andare avanti Non è vero Ogni tanto Ok perfetto Ho il personaggio un po' storto Ok mi sto Questo qua è una sorta di labirinto direi E c'è Però è a senso unico Non ci sono altre strade Ok io mi auguro che non ci siano jumpscare o robe varie Non penso perché raga Tecnicamente Lost Silver Sarebbe nato come Akrom E quindi Dubito ci siano jumpscare strani Comunque Ok Oddio Questo Questo raga Cazzo non abbiamo gli occhi Ok perfetto Questo raga è il monte argento Sono abbastanza convinto Quello era red Ok Perfetto A sto giro siamo su Game Boy Color Ovviamente raga Nello scorso episodio eravamo su Game Boy Please has Cavolo non ho controllato la mia squadra Aspettate E' vero E' vero che qua gira così Vediamo Ok Abbiamo 4 unknown D D Dex E Un Typhlusion tagliato a metà cazzo No cioè vabbè Non metà cazzo Metà Era un'esclamazione quella E' paralizzato Livello 91 E un uovo Thunder Punch Non so neanche se lo puoi imparare Typhlusion Ho paura per l'uovo raga Dex Dex Quindi mi stai dicendo che Non ho un Pokédex io Vediamo nella borsa se c'è qualcosa Niente da fare Dex Mi viene in mente il Pokédex Dex raga Se uno mi dice Dex Vediamo qua Ok qua non varia Per il momento I capi palestra Non hanno gli occhi Perfetto Dovrebbe essere La La stessa scheda allenatore Quella senza occhi Oddio Non sono convinto Però A sto punto direi di andare giù di qua Please sp Si sta aggiungendo Una lettera alla volta Mi sa Vediamo se c'è qualche cambiamento Merda E' schiettato Qua cambia qualcosa Di Danny Deny Deny Minchia non ricordo cosa voglio dire Deny Ve lo metterò in sovrimpressione L'uovo Ok non ci sono informazioni Su di lui Ma mo mo Ok mo se hanno solo Eden power Perfetto Deny Minchia non ricordo cosa voglio dire Fermi Scemo Ok musica Cos'è succede Cos'era Un punto di do Minchia mi è apparto Ok si è schiuso l'uovo Raga Ok E' sempre Deny Vero Si Cos'è Syndaquil E' tipo Harry Quello che avevamo all'inizio Di pokemon Lost silver Quello iniziale Penso che lo ricordiate Raga Ok nel caso Vi lascio il link Del video creepypasta Che ho fatto qualche tempo fa Ma Ok immagino di dover proseguire Ok Oh questo qua E' sempre monte argento Lo stiamo facendo a ritroso Raga Però qualcosa mi dice Che non andrà avanti Per molto Cioè non penso che ci riferemo Tutta la region Qua la musica è rallentata Assolutamente si Ok Perfetto Proseguiamo Vediamo se c'è qualcosa Da questa parte Strumenti Cose strane Insomma Non ricordo neanche la strada Di questo monte argento Ad essere sincero Quindi vado un po' intuito Non si trovano neanche Pokemon selvatici Noto Sono abbastanza convinto Che se ne trovassero E come Nel gioco originale Ok Perfetto Tra l'altro Personaggio raga Non è facile Neanche da controllare Perché va molto A scatti Cioè nel senso Va molto E' molto Strashing about Cosa Fermi Fermi De De Deny Sempre Cos'è Succe Ok E' aumentato Di livello E' aumentato Di fottuto livello Lear flash nightmare Ok No aspettate Fermi 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 No non è aumentato Il livello Forse ho visto male io Forse ho visto male io Ho avuto un abbaglio Sì infatti E' next level Quello Ok Perfetto Ok Vediamo Controlliamo un attimo La scheda No la scheda Non varia Penso Ok Perfetto Proviamo A vedere Se ci sono Altre zone Ma non penso Raga No ok Usciamo dal monte argento Ok Perfetto E' tutto in bianco e nero Sembra di essere tornati No Siamo tornati sul gameboy Oh cazzo Quello è silver Quello è silver Minchia gli devo parlare Minchia gli devo parlare No Non ho molta scelta Dove Ok Non sto affrontando silver Ma sto affrontando Fera Ligator Che è tutto storto A livello 90 Ma Ok Fermi Cosa Cosa No Che cazzo è sta roba L'ho addormentato Ok Va bene Ha un incubo Lo mando giù Lo mando giù È diventato totto Dell'improvvisamente La musichetta Era tutta strana Ok L'ho ucciso L'ho ucciso Heaven Anche Heaven Ha tanti sign Ok Fermi 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 Con molta calma Vediamo se La situazione è cambiata No E' sempre lo stesso Lui ha un pipì Ha ancora un pipì E non ha il nome Tra l'altro Mi sono accorto Vediamo se Forse Tornando indietro Ok Vedo tanta gente Che conosco Questo è Ok I Oh cazzo Id Non so cosa sia Sta roba Una Y Un Raga mi sembra quasi Dover formare una parola Con questi Unknown Non saprei Id Ok Questo è Raffaello Questo è Una Y Questa è Una H Non Non riesco a trovare Un nesso logico Con le parole Raga Sarà che non sono Ferratissimo Con l'alfabeto Unknown Però Teoria Qualcosina Dovrei Una 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 I Una Lettera Strana Questa Penso fosse Una Q Tra l'altro La canzoncina È Na 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 Sembra Quasi Una Lavandonia Storta Questa Penso sia Una O Qua immagino Non poter Entrare No Ok E Boh Raga Non riesco A trovare La parola Seriamente Questa Chi è Questa Dove Essere Jasmine O Anche perché Non so Se abbiano Un ordine Preciso Forse Servirebbero Anche per Andare avanti Sapete Questa è Sandra Uh Penso Raga Uh Fermi Fatemi controllare Un attimo La scheda Allenatore Vediamo Se È tutto Help Aiuto Help Eh Ci servirebbe Mi sa un po' Di aiuto Ok Perfetto Non c'è Null'altro Proviamo Andare a nord Ragazzi Merda Lens K Sto ancora Volando Non sono Riusci Merda È ancora più Lento Ed è tutto Fottutamente Viola Questo Potrebbe Potrebbe tranquillamente Essere un riferimento Alla lavanda Ossia Lavender Town Lavender Town È la città del viola Ok Perfetto Non ho recepito Un messaggio Che volevo Andarmi prima Però adesso Vedremo Che cosa Dicono questi Figa Non so Che let Ah forse Una W Potrebbe Essere Una W Why Vediamo Se Y What Who Who Are you Who are you Per forza Who are You Chi sei Who are You Ah ok Adesso hanno Un ordine Specifico Forse Perché sono Le stesse Lettere Di prima Who are You Who are You Kid Chi sei Ragazzo Ok Oddio Di nuovo Quello Red Madonna Ok Questo qua Dovrebbe Essere Il sentiero Quello Con le foglie D'autunno Tipo Si so Che non è Molto Cioè Save you Salvati Oddio Ha dimenticato Incubo Fermi Ok Ne è apparso Un altro Merda Xe Xea Xe Questa cos'è Raga Questa lettera Questa lettera qua Cos'è Madonna Non mi viene È una Non è una S È una Xe Beh Questo qua È per forza Una X E ci siamo Xia Xia Xì Xì Non lo so Xit Bull Chiusa Pokemon Stats Hai imparato Ok Ci aveva detto Che aveva dimenticato Nightmare Però Ok Nel frattempo Prima qualcuno C'è detto Save you Salvati Ok Ho Visso Un piccolo flash Non mi piace Come cosa Go away Vai via Cosa Merda No Aspetta Sono ritornato qua Non ci credo Ok Calma Non vorrei fosse un loop infinito Raga Vediamo Adesso lo scopriamo Madonna Che figata Che figata Sta seconda parte Ancora meglio Della prima Oserei dire Vediamo No Ho fatto yes Porco Ok Sono abbastanza convinto Che sia un loop infinito Raga Questa qua È la vecchia parte Però No Non è la vecchia parte He Died Sì Sì È la vecchia parte Ok Perfetto Ok Ragazzi Allora Per continuare Se non l'avete ancora visto Nel frattempo mi cade il personaggio Se non avete ancora visto La prima parte di Pokemon Lost Silver Vi lascio la creepypasta Nei commenti E in descrizione Con di sottofondo La voce narrante Che è la mia Detto ciò Io spero che questa seconda parte Di Pokemon Lost Silver Questo finale segreto Vi sia piaciuto Se è così vi invito Come al solito A lasciare un bel mi piace Un commento qui sotto Un'iscrizione al canale Se vi piace questa serie Dedicata all'horror E al creepy Vi invito a lasciare Un bel mi piace E nulla Passate anche dei social In descrizione Per rimanere sempre aggiornati Sulle attività Al di fuori del canale E premete la campanella Per rimanere invece Aggiornati sui feed Detto ciò ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo video E al di fuori del canale